vuoi acquistare crediti passa da fifa easy.com utilizza il codice coupon malati 15 per avere l'otto per cento di sconto link coupon in descrizione salve ragazzi bentornati o benvenuti sul canale di noi malati di foot io sono jovis pop questa volta sono in facecam per portarmi un pack opening alla velocità della luce perché stanno per scadere i minuti che ci occorrono per poter spacchettare andremo a spacchettare non so 2 3 pacchetti da 100.000 crediti e poi qualche pacchetto così per spendere i restanti fifa points per cercare di trovare qualcosa di decente ora quindi non ci perdiamo in chiacchiere il joystick e carico quindi oh il primo pack apro chiudo gli occhi e guardo attentamente l'uscita del top player che sono 89 vediamo un pochettino ma è assurdo assurdo ragazzi sì ok c'è in un pacchetto da 100k lucas ma è una cosa assurda p***e seria p***e andiamo al prossimo e questa volta lo guardo lo guardo perché voglio trovare il super giocatore o melz o melz però fa schifo lo stesso quadrato krikowiak si uno da 35 no così perfetto zitti 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 ci esce il top player navas ma da male che cazzo male pareco mamma mia un cazzo di niente veramente noi conserviamo tutto nel club a 500 crediti cazzo a 500 crediti mica male mica male ultimo da 100.000 dai cazzo dai cazzo dai cazzo dai cazzo dai cazzo dai qualcosa porca quella puttana di merda non ci credo non ci credo consigli in forma consigli in forma cazzo un informe a chi cazzo se ne frega almeno un informe abbiamo trovato di nuovo pareco ma consigli in forma ci sta ci sta ragazzi ci sta tutto eh va bene un cazzo di niente ma almeno un informe ci sta continuiamo la nostra avventura questi discartiamo tutti chi se ne frega pariamo un pacchetto l'ultimo pack poi vediamo se apriamo un altro da 150 fifa points mamma mia che schifo di merda proprio assurdo proprio assurdo di merda assurdo 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 vediamo un po' 150 crediti questo pack anche se qui non uscirà un cacchio di niente ma almeno uno dice io lo apro ma chissà magari esce il top un cazzo di niente ma sono proprio sfigato sfigato all'ennesima potenza ragazzi all'ennesima potenza incredibile incredibile mamma mia che schifo che schifo ragazzi abbiamo consigli in forma umels mata mutinio luca smertens quadrato qui come ben te che pareco demicellis klein asenio carvajal close costillo per nane speculi haxca capo e borra basta basta questi i ramires niente di che ragazzi niente di che veramente un pacco opening andato da merda dunque se voi avete trovato di meglio non esitate a commentare qui sotto questo video non esitate a mettere un mi piace se avete trovato qualcosa di decente oppure avete spacchettato la merda come me iscrivetevi a questo canale e mettetevi mi piace la nostra pagina facebook lì qui in descrizione ragazzi quel giorno di spot vi saluta e vi ringrazio ciao belli